Siamo su Positano News e i ragazzi del San Vito Positano vogliono fare un appello ai propri tifosi. Sì, vorremmo invitare i nostri tifosi a continuare a sostenerci come hanno fatto fino ad ora, già dalla partita di domani, perché è una partita molto difficile e abbiamo bisogno del loro sostegno, anche perché fino ad ora sono state la nostra arma in più. Vorremmo distogliere i dubbi dalla questione dell'amministrazione comunale della Ringhiera, in quanto è stata messa per motivi di ordine pubblico e per motivi di sicurezza. E per quanto riguarda la partita del Napoli, in quanto ci è stato categoricamente imposto di portare solo tesserati, addetti stampa e dirigenti. Se avessimo potuto non ci saremmo mai privati del vostro appoggio, sempre caloroso come sempre. Speriamo quindi un riscontro positivo, perché domani vediamo già a sostenerci ed aiutarci. Forza Positano! Forza Positano!